ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto particolare perché vi faccio entrare nella mia postazione quindi nella mia stanza makeup e andremo a sistemare svariate cose se volete vedere cosa devo sistemare e come sono riuscita a sistemarlo seguite il video ci vediamo dopo alla fine ciao ciao iscriviti al canale 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 io vi mando al prossimo video e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao